È giallo su quanto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Sanazzario, dove un automobilista è stato rapinato da due individui. Secondo le primissime indiscrezioni, l'uomo sarebbe stato avvicinato da due uomini che l'avrebbero rapinato prima di far perdere le proprie tracce, dileguandosi a bordo di una Fiat Multipla, sul caso indagano i carabinieri.